Ciao a tutti, è un piacere essere qui, anche se purtroppo non possiamo essere in una piazza o su un palco a festeggiare questo primo maggio, però è importante che la musica non si fermi e quindi sono qui a presentarvi questo mini set di Fano Tre Pezzi del mio progetto solista che si chiama The Nude. Ora comincio, ringrazio la mia cameraman improvvisata Angela e i miei due cani che voi non potete vedere che stanno russando sul divano. Questo si chiama Little Blue Flower. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.